Sistemazione e riasfaltatura di un terreno non di proprietà comunale ma dell'Ater e in parte anche di privati utilizzando materiali di rifiuti accumulati per anni senza nessun controllo e quanto denuncia Italia Nostra a Lanciano in merito ai lavori in corso nel quartiere di Olmo di Riccio approvati con delibera di giunta con urgenza invocando il precario stato della pavimentazione stradale e la mancanza di sistemazione raccolta delle acque piovane di 80 centimetri l'innalzamento della strada rispetto alla quota precedente per Italia Nostra dunque intervento illegittimo e su un'area per anni di scarica abusiva 24 mila euro l'importo che non ha previsto inoltre nessuna sistemazione a verde con la messa a dimora di alberi di cui Olmo di Riccio è assolutamente carente soldi che l'Ater quindi avrebbe dovuto sborsare e non le casse comunali per Pierluigi Vinci Guerra presidente della sezione di Lanciano d'Italia Nostra si tratta di una scelta dettata puramente da campagna elettorale e atteggiamenti clientelari. Chiaramente nel fare questi lavori non si sono nemmeno accorti che al di sotto di questa sistemazione di quest'area ci sono e c'è l'accumulo di una serie di rifiuti e non sappiamo nemmeno se sono rifiuti speciali o meno per cui è stata anche avvisata i carabinieri della forestale per verificare la vericità di questa faccenda. L'assessore Verna che tra l'altro è anche vice sindaco evidentemente ha fretta di chiudere la partita di dimostrare che lui fa fare gli asfalti eccetera eccetera ma su che cosa? Su aree che non sono di sua proprietà quindi i nostri soldi vengono spesi inutilmente in aree di non proprietà del comune e questa è una cosa scandalosa che Italia Nostra non riesce a capire e a concepire.